Gli Stati Uniti per il momento restano in difesa. Il Pentagono ha appena annunciato l'invio di nuove truppe e mezzi negli Emirati e in Arabia Saudita, dal momento che il presidente Trump ha deciso di non colpire militarmente l'Iran dopo l'attacco alle raffinerie saudite a Ramco. Questo è il primo passo che facciamo per rispondere a questi attacchi, ha spiegato il segretario statunitense alla difesa, in primo luogo per contribuire a rafforzare le difese di Arabia Saudita ed Emirati, in secondo luogo per assicurare la libera circolazione del commercio attraverso lo stretto di Hormuz e in terzo luogo per garantire la protezione e la difesa della comunità internazionale, cercando di convincere gli iraniani a tornare su un sentiero diplomatico. Nei giorni scorsi il segretario di Stato Mike Pompeo ha visitato Emirati e Arabia Saudita, dove ha incontrato il principe ereditario Mohammed Bin Salman, ma il ministro degli esteri iraniano Zarif ha minacciato guerra totale in caso di attacchi americani o sauditi su Teheran.